Ciao a tutti ragazzi, qua Jack04 e benvenuti in questo nuovo video di Portal 1. Quest'oggi siamo a fare il livello 19, l'ultimo livello che prevede la torta. Come vedete che ci danno una torta, noi siamo molto contenti di questo. Allora, questo è veramente una cavolata. Poi vedete che lo sbaglio subito qui. Infatti lo sbaglio subito. Allora, questo può sembrare una cavolata, invece non fa. Ah, era più semplice di quanto pensassi. Congettiamoci qua, ci abbassiamo, tutto ben saltiamo. Ok, adesso dobbiamo essere tempestivi ragazzi. Infatti solo quando vediamo. Ecco appunto. Questo episodio sarà tutto un po' così. Ma si spera di no. Perché se no. Appunto. Ecco, la torta è sbarata. Molto bene. Allora. Ci ho fatto? Molto bene. Ci piace molto. Non so se tutto sta vagando per l'altra stanza. Non si distruggerà mai. Questo è l'ultimo livello. Come vi ho già detto. Detto. Facciamo così. Non so se tutto è l'equilibrio, ragazzi. L'equilibrio. Non so se tutto è l'equilibrio. Non so se tutto è l'equilibrio. Molto bene. Può sembrare un'atmosfera angusta. In realtà no. Speriamo di non morirci subito. Vedete che lì si possono fare i portali. Anche qui. Quindi noi facciamo. Esatto. Non ci penso neanche. E mi immagino già la festa che mi farei. Sicuro? Guardate lì. Guardate lì. Ecco appunto. Sempre il meccanismo di due episodi fa. Siamo nella parte nascosta. Ecco appunto. Allora. Qui c'è un meccanismo. No. Tutto aperto. Tutto aperto. Tutto aperto. Qui c'è un meccanismo. Qui c'è una porta. Molto bene. It's me. I know you're there. I can't feel you're here. Hello. Hello. Allora. Vieni qua. Come qua. Appunto. Ti sentite? Qualcosa ma. Spero di no. Perché sennò. Allora qui. E' abbastanza gusto la situazione. Se ne facciamo così. No. Dobbiamo morire. Non dobbiamo morire. Adatto. Non dobbiamo morire. Se ne facciamo così. Se ne facciamo così. Ripetizione. Se ne facciamo così. Così. Ecco così. Non siamo andati molto bene. E qui dove andiamo? Oh. Uscita. Tirata. Invece di qua. Dunque. Niente. Adesso è una stanza. Per. Aperto. Sacking. Poi aperto. Questo era il test. Di. Dell'episodio scorso. Dell'episodio 3. Con le pedane che si alzano. Qui. Questo. Questo non mi ricordo che è tester. E qui. Sì. Eh beh. Allora andiamo di qua. Che c'è scritto uscita. Noi seguiamo i cartelli. Follow the blood. Ah. Il cartello non lo dici qua. E quindi dovrei fare così. Così no? Esatto. Esatto. Eh. Sì. Oggi. Oggi. Ripeto. Oggi è un po' così. Fermiamoci. Grazie. Io vi farò venire il mal di mare. Un sacco di volte. Un sacco di volte poi. Allora. Lo facciamo qui. E ci catacultiamo. Perfetto. Qui a dove eravamo primo. Eh. Lo so che non sono scappato. Ti sei sicuro? Hello. Eccoci. Stiamo viaggiando insieme a un cuore. Ci cambiano un sacco di volte. Ok. Dove siamo arrivati? Qua. Ok. Di nuovo qua siamo. No, davvero. Basta far cadere i... Vabbè. Questo non lo sapete. Oh. Oh. Non posso avassumare qui? Ecco. Se no andiamo qua. Ok. Questi mica si alzano. Molto bene. Ok. Di qua. Non posso avviare niente. Ah. Che dobbiamo. Non c'è. Semplicemente. Vediamo. Aspettiamo. Aspettiamo. Questa. Aspettiamo che ci porti in avanti Allora Eh, questo però mi sa molto di... Boh, spuntate, no, questo lo lascio qui Facciamo così Ah, ok Ok, ce l'abbiamo fatto Caricamento Me l'hai già detto Aspettate, dove stai in... Ah, ho sbagliato parte io, scusate Allora Vediamo se così può funzionare Ah, non mi vai E qui cosa troviamo? Niente E niente tolto Dunque non l'abbiamo preso Allora, qui troviamo... Passiamo a guardare un premio Allora... Questa è la parte tipo 1 Aspettate... Aspettate... Vediamo se riusciamo a farlo Con un po' con un po' di parkour No, non l'abbiamo Opa... Sembrava tutto più difficile Invece no Allora... Allora, qui... Aspettate... Aspettate... Allora, ragazzi... Concludo qui questo video Spero che vi sia piaciuto Se è così stato lasciate un mi piace Un commento Vi ricordo che in altra destra Potete trovare tutta la nostra playlist Con tutti gli episodi precedenti Un saluto da Jack04 E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi